Benvenuti amici di MobileOS, siamo qui con la seconda generazione del PC10 Windows 8.1, Intel Atom 0.3-85F da 1.83 GHz, 2 GB di RAM, fino a 64 GB di hard disk 10 pollici di schermo, Full HD, OHD in base alle versioni, 2 megapixel di camera, micro HDMI, micro SD Il pad pesa circa 585 kg, la dock siamo su 1,17 kg Non ghili ma grammi naturalmente, 585 grammi Abbiamo HDMI, abbiamo detto porta USB, micro SD, microfono Abbiamo poi qui l'ingresso per il trasformatore, la corrente Qui qua abbiamo la porta USB Naturalmente il tablet ha questa angolazione, troviamo all'interno naturalmente Windows 8.1 Il tablet però si stacca, può essere quindi usato anche come tablet E può essere perfettamente anche girato, messo in questo modo e quindi usato anche in questa posizione Per esempio, oppure proprio come un tablet in quest'altra Quindi questa è la novità di Acer per quanto riguarda il modello 10 pollici Nella seconda generazione dell'Apple Aspire Switch 10 E' la novità di Acerca 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 Grazie a tutti.